bello a tutti i ragazzi a bassa volume a bassa volume cavolo oggi io e mio amico scioperemo insieme il nuovo balletto Rasputin uno dalla russa con fulore lo scioperemo oggi insieme 3, Pietro sei pronto? 3, fammi vedere che lo sciopico è perfect timing va bene 3 2, 1 siii laggiù viveva un certo uomo sicura mamà sicura sicura? va bene preso anch'io ma mi sono rimasti 10 V-back mi sono rimasti 10 V-back